Dalle parole e dagli intenti questa volta si è passati ai fatti e così che i quattro comuni molisani facente parte della costa dei delfini hanno voluto partecipare alla manifestazione organizzata alle isole Tremiti da parte dell'associazione Tremiti Punto e a Capo contro le trivellazioni nell'Adriatico. Siamo contrari intanto all'utilizzazione di fonti fossili per la produzione di energie e riteniamo che sia ormai fuori tempo perché noi abbiamo il dovere comunque di tutelare il nostro territorio e l'economia del nostro territorio che si basa anche fondamentalmente sul mare e sul fatto che il mare comunque non venga aggredito, che non si alteri l'ecosistema, che non si deturpi l'ambiente. L'evento è consistito in una catena umana fatta da circa 150 persone nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di San Domino e a cui ha preso parte anche la regione molise. Dobbiamo cercare di comprendere in che modo rendere compatibili l'esigenza di produrre energia con l'esigenza di tutela della costa. Noi restiamo dell'idea che le trivellazioni non rispondano ad una moderna amministrazione finalizzata alla produzione di energie. Noi saremo certamente al fianco delle regioni che vorranno difendere in ogni modo la loro costa. Oltre ai comuni di Termoli, Petacciato, Montenero, anche Campomarino ha voluto esprimere il proprio no convinto. Anche Campomarino è qui per esprimere l'assoluto dissenso a questa iniziativa, a questo progetto di estrazione e trivellazioni del mare che deturperebbe sicuramente la nostra costa, i nostri mari. Sono il fulcro delle istituzioni e degli enti locali che vogliono sostenere uno sviluppo e una crescita intelligente del proprio territorio, nel pieno rispetto delle biodiversità, degli ecosistemi. E quindi anche noi qui proprio per dire, per rimarcare, per esprimere il nostro dissenso più assoluto. Ora dopo questa manifestazione l'obiettivo è instaurare un dialogo con il governo per capire quali sono le possibili alternative per uno sviluppo energetico sostenibile e che non intacchi ulteriormente l'ecosistema marino e la costa molisana. Del resto è proprio questo ciò che è alla base del manifesto redatto a Termoli lo scorso luglio da alcune delle principali regioni del sud che affacciano sul mare Adriatico.